Informatica, come difendersi dalle truffe ai danni dei cittadini e imprese, il convegno phishing e sicurezza informatica a Palazzo del Pegaso ha visto la partecipazione di Corecom, Feder Consumatori Toscana, Polizia Postale e Arbitro Bancario e Finanziario. Generazione News, le notizie con gli occhi dei giovani, presentato a Palazzo del Pegaso, il progetto del giornale online per e con gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana. Fishing e sicurezza informatica sono temi sempre più di attualità con le truffe ai danni di cittadini e imprese che sono in grande crescita, sfruttando la scarsa conoscenza dei pericoli che trovano gli utenti spesso impreparati. Per questo a Palazzo del Pegaso si è svolto un convegno sull'argomento, con i maggiori esperti del settore, una giornata di lavoro e confronto fortemente voluta dal Consiglio regionale, Corecom e Feder Consumatori Toscana, con la partecipazione della Polizia Postale e dell'arbitro bancario e finanziario. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha sottolineato come la rete offra grandi opportunità, ma anche notevoli rischi. Noi abbiamo la necessità di non voltarci dall'altra parte rispetto ad un fenomeno che cresce e che purtroppo continuerà a crescere. I furti di identità, i furti informatici. Siamo abituati a difendere le nostre case con i sistemi di allarme. Dobbiamo costruire sistemi di allarme informatici, avere evidenza di come puoi essere truffato, insegnare alle ragazze e ai ragazzi a come ridurre questo rischio. Perché nel futuro, con l'intelligenza artificiale, è evidente che il rischio di aumento di questi casi esiste. Però per poterlo ridurre è necessario che ognuno di noi sia più formato a ridurre il rischio. Questo è il senso di questa iniziativa che Feder Consumatori, insieme al Corecom, ci ha voluto proporre. E allora noi come Consiglio regionale dobbiamo spalancare le nostre porte, lavorare per andare nelle nostre scuole, andare a parlare nei centri sociali, nei centri di aggregazione giovanile, nei luoghi in cui si incontrano gli anziani, andare a spiegare cosa accade per ridurre questo fenomeno. È evidente che il mondo va in una direzione che è quella della digitalizzazione sempre maggiore, ma allora servono strumenti per ridurre il rischio di frodi. È un lavoro che noi vogliamo portare avanti e a cui teniamo molto. Noi abbiamo avviato proprio in questi mesi una campagna in tutta la Toscana, anche di informazione, il Corecom Tour, su quelle che sono le funzioni, l'evocazione e gli impegni principali del Corecom. In questo senso l'iniziativa di oggi è molto importante, quella promossa dal Consiglio regionale e da Feder Consumatori, perché appunto dà voce fino in fondo a una delle problematiche principali che i cittadini, le aziende, gli utenti vivono quotidianamente, che è questo appunto delle truffe telematiche, delle truffe telefoniche. In questo senso c'è un lavoro anche storico del Corecom, che il Corecom svolge col concilio a web, che è quello appunto di fare un po' da mediatore, da negoziatore tra l'utente e le compagnie telefoniche. Noi successivamente crediamo che sia importante appunto coinvolgere l'insieme dei soggetti da Toscana per una grande campagna di informazione in questo senso e noi faremo proprio un bando il prossimo anno, quello Toscana e Spot, dedicato proprio a questo tema, delle truffe telefoniche, delle truffe online, in modo da premiare i migliori video che verranno proposti da un po' da tutta la Toscana. Importante in questo senso poi sarà che questi video vengano fatti circolare e questo noi chiediamo uno sforzo generale a tutti, perché questa campagna di competenze digitali, di padronanza digitale è un tema centrale e noi dobbiamo dare gli strumenti a tutti i cittadini, soprattutto quelli più deboli e fragili, di avere gli strumenti per non incorrere in queste truffe. I rischi principali sono soprattutto i malware, statisticamente anche dall'ultimo rapporto Clusit di ottobre 2023 sono percentualmente gli attacchi che vanno più a segno. I ransomware sono dei virus che criptano il contenuto di un computer o di una rete e per decriptarlo chiedono un pagamento in denaro, normalmente in moneta virtuale. Al secondo posto poi abbiamo gli attacchi DDoS, che sono degli attacchi che tendono a far crollare il funzionamento di un sito internet e renderlo inservibile e quindi con notevole danno ovviamente per il titolare e anche per gli utenti che se ne servono. E al terzo posto, ma non distaccati di molto, c'è il phishing, il classico phishing, che si realizza però con modalità veramente all'avanguardia. Normalmente sono tre modalità in una. Arriva prima l'SMS di phishing con un link malevolo. Cliccando sul link si apre un falso portale, normalmente di un istituto bancario, dove vengono inserite le credenziali di accesso. Però per completare il tutto si riceve una chiamata di un falso impiegato di banca per ottenere i codici OTP necessari per concludere il bonifico e la truffa. Abbiamo ritenuto di organizzarla perché pensiamo che sia un tema di assoluta attualità sul quale non si deve assolutamente abbassare la guardia e non ce n'è mai abbastanza. E quindi c'è bisogno di procedere con una capillare opera di informazione, formazione e educazione digitale dei giovani e degli adulti, perché ormai non possiamo fare a meno degli strumenti digitali per le nostre comunicazioni, per i nostri acquisti, per la nostra vita di relazione. E ne facciamo spesso un uso inconsapevolmente incontrollato. E questo ci espone a dei rischi gravi che è bene conoscere per poterli prevenire. L'arbitro bancario finanziario è stato istituito nel 2009 dalla Banca d'Italia. È incommiabile iniziativa perché è uno strumento semplice, di facile accesso, economicissimo, che consente a molti sfortunati nell'ambito di questi rapporti con le aziende bancarie di ottenere un'attenzione, oltre che una tutela, prontissima, immediata ed efficiente. È un strumento che merita di essere incentivato, esteso, migliorato, è sempre possibile e soprattutto non solo nell'interesse del momento patologico, diciamo, della vicenda dei rapporti, ma anche in quello educativo. L'educazione sia nei confronti dei clienti, sia nei confronti delle aziende bancarie, ad una responsabilità sempre maggiore perché tutelino sempre di più i loro clienti nei confronti, purtroppo, dei malfattori. Ora, io direi come auspicio una diffusione sul territorio di questo strumento a cura delle associazioni dei consumatori. Generazione News, ovvero il giornale online degli studenti e delle studentesse della Toscana, la voce di chi ha la voglia, la forza, la capacità di leggere il mondo, vivendo da protagonisti consapevoli e sporcandosi le mani nelle vicende di ogni giorno, per portare un contributo che fa davvero la differenza. Non a caso l'idea di questo giornale, presentato martedì 12 dicembre in Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso, è partita proprio dai giovani, dalle consulte provinciali degli studenti e dal Parlamento regionale degli studenti, per essere poi recepita dal Consiglio regionale della Toscana, l'Ufficio Scolastico regionale, l'Ordine alla Fondazione dei giornalisti, le scuole. A dare là la presentazione del progetto, il Presidente dell'Assemblea Legislativa, Antonio Mazzeo. Abbiamo sempre detto di dare più voce a chi ha meno voce, attraverso Generazione News i giovani, i nostri ragazzi, nelle nostre scuole possono raccontare il loro punto di vista sul tempo che viviamo. È uno spazio libero, è uno spazio aperto, è uno spazio di confronto, è un luogo in cui provare a raccontare il presente e il futuro. È un modo per dare autonomia e per noi, per poter ascoltare, per poterci confrontare. Un grazie al Parlamento degli studenti, un grazie alla consulta, un grazie all'Ufficio Scolastico regionale. Viviamo un tempo in cui siamo inondati da informazioni, da notizie. Poi trasformare tutto questo in qualcosa di credibile richiede che le persone analizzino quelle informazioni e le trasferiscano agli altri in maniera più credibile. Questo è il lavoro che i ragazzi e le ragazze stanno facendo. Allora un grande in bocca al lupo e penso che ogni volta che si costruisca un giornale, un luogo aperto, si costruisce libertà e noi abbiamo bisogno di vivere in un mondo libero. Innanzitutto è fondamentale avvicinare i ragazzi alla lettura, indipendentemente dal mondo del giornalismo. È chiaro che quando poi appassioni i ragazzi alla lettura, il passo successivo è coinvolgerli nella nostra professione. Professione che in questo periodo, sapete, è bombardata da mille informazioni. E credo che questo sia un progetto utilissimo per i ragazzi, per drenare tutte queste informazioni che arrivano e elaborarle con le loro idee. È chiaro che noi, come ordine dei giornalisti, la nostra funzione è quella di assistere, di essere vicini alle loro esigenze e accompagnarli in questo percorso. Tra l'altro siamo molto sensibili all'informazione per i giovani e soprattutto con i giovani. Fondamentalmente funzionerà con il gruppo fondatore di questo progetto, che sono una ventina di ragazzi che da due anni lavorano a questo obiettivo. Dopodiché in ogni città, anche attraverso i presidenti delle consulte, si formeranno delle piccole redazioni, divise anche per argomenti, per la scelta che ogni ragazzo individuerà. Quindi gli argomenti che vorranno seguire e il territorio. E poi ci sarà qualcuno che farà la quadra, e si farà un'operazione di sintesi, che sarà a Firenze, alla scuola Sassetti Peruzzi, che è un po' la scuola capofila di tutta questa accordata, da cui nasce una scuola molto viva, con un preside molto attento e molto aperto alle novità, che guida un po' tutte le altre scuole. Per l'ufficio scolastico regionale che ha sostenuto questo progetto, anche grazie all'accordo con l'Ordine e la Fondazione dei giornalisti toscani e con il Consiglio regionale toscano, è quello di promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi, il promuovere le competenze del saperso orientare in un mondo dell'informazione molto ampio, in cui non è semplice poi saper individuare ciò che è giusto da ciò che non è giusto, ciò che è vero da ciò che non è vero, e quello di poter, visto che l'idea è nata all'interno delle consulte degli studenti, quello di dare gambe ad un'idea importante, potente, come quello di fare un giornale fatto dagli studenti, rivolto agli studenti, nato fuori dalla scuola, ma a vantaggio e con ricadute importanti dentro le istituzioni scolastiche. Io parto col dire che in questo momento sono molto contento e anche un po' emozionato, perché reputo fondamentale che in questo caso le istituzioni si prendano il compito in qualche modo di emancipare i ragazzi anche sotto un aspetto di vita politica, perché oggi purtroppo vediamo molto spesso i ragazzi lasciati fuori dalla partecipazione politica consapevole e questo giornale penso che sia un deciso passo in avanti verso una scuola invece che sia caratterizzata dall'inclusione, quella vera e dalla partecipazione alla vita politica, che può derivare solo da un'emancipazione vera ed effettiva. Siamo una rappresentanza studentesca, il progetto nasce dal coordinamento regionale delle consulte in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana e per l'appunto abbiamo creato questo progetto, abbiamo dato la possibilità a tutti i studenti della regione Toscana per l'appunto di partecipare a questo bellissimo progetto. Per ora siamo arrivati a 120 iscritti totali, però insomma è un lungo percorso, ci siamo attivati da poco in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e il consiglio regionale, quindi ci stiamo avviando e la cosa più bella secondo me è che è un progetto che parte dagli studenti, dal volere degli studenti e le istituzioni che rappresentiamo, che siamo e con cui collaboriamo, ci hanno appoggiato e insieme stiamo collaborando e quindi è un primo progetto effettivo di collaborazione che si porta avanti e si fa.